come si diventa artisti beh se qualcuno di voi ha questa idea in testa e vuole studiare in tal senso molto probabilmente si iscriverà a un'accademia di belle arti ma questo percorso che a noi sembra assolutamente normale non era scontato nella storia voi sapete che per tutto il medioevo e per tutto il rinascimento gli artisti si formavano in bottega quante volte noi abbiamo nominato le botteghe più importanti degli artisti più celebri che appunto accoglievano i ragazzini li adottavano diciamo così ne diventavano i tutori legali e gli insegnavano tutto quello che sapevano del mestiere ma durante il rinascimento in particolare le botteghe erano un po un luogo chiuso privato nel senso che c'era una sorta di segretezza diciamo così del sapere che veniva trasmesso in forma individuale dal maestro agli allievi allora dobbiamo invece fare un passo in avanti se oggi voi potete iscrivervi all'accademia di belle arti lo dobbiamo quasi sicuramente a un gruppo di tre cugini li vedete qui adesso vi mostro un po meglio ecco sono tre cugini che si chiamavano annibale ludovico e agostino carracci erano originari di bologna ed erano tre artisti che fonderanno un'accademia di belle arti la parola accademia in realtà deriva ancora una volta dal greco e fa riferimento a quella scuola di filosofia di platone che platone aveva nel quarto secolo avanti cristo fuori la mura di atene e prenderebbe il nome la parola accademia da un personaggio un certo accademo che aveva donato il terreno su cui appunto platone platone e i suoi discepoli discorrevano di filosofia facendo invece un salto in avanti nella storia forse la primissima accademia di belle arti una scuola in cui poter imparare le arti probabilmente è stata appunto l'accademia di arti e le arti del disegno di firenze istituita da cosimo primo de medici nel 1563 su consiglio ancora una volta niente meno che di giorgio vasari ancora una volta lui ma dovremo aspettare la fine del cinquecento in particolare del 1582 in poi perché questi tre personaggi che vi sto mostrando vi dicevo due fratelli annibale agostino e un cugino ludovico carracci perché questi tre personaggi questi tre cugini fondassero la prima vera e propria accademia di belle arti l'accademia che i tre creeranno a partire vi ripeto dal 1582 fino ad arrivare all'apertura vera e propria di quella che poi diventerà l'accademia importante nel 1590 ecco fonderanno dapprima una accademia che si chiamava accademia del naturale l'idea era quella che gli artisti dovessero essere ispirati dalla riproduzione del vero il naturale come la natura il luogo in cui poter trovare la realtà il vero era un po una sorta di risposta contro il tardo manierismo che nel cinquecento aveva in qualche modo preso piede un po in tutta italia e in qualche modo era davvero un modo di invece avvicinarsi all'idea vasariana di nuovo vasari appunto di della ricerca del vero della verosimiglianza la mimesi limitazione del naturale appunto proprio come antitesi agli eccessi del tardo manierismo di cui vi accennavo ma dopo il primo nome accademia del naturale questa accademia nel giro di qualche anno muterà il nome e si trasformerà nella accademia dei desiderosi pensate a questo termine che bello desiderosi volevano in qualche modo i tre cugini descrivere il desiderio che stava dietro la formazione che gli artisti dovevano intraprendere perché adesso vi racconto che cosa avevano di diverso queste accademie rispetto alle botteghe ma finiamo con il parlare dal 1593 fonderanno a bologna si chiamava accademia degli incamminati pensateci l'idea è quella di intraprendere un percorso incamminarsi partire avendo la consapevolezza che studiandosi gli artisti avrebbero potuto compiere un percorso di maturazione molto bella come idea secondo me l'idea che si studia per imparare certamente non per non perché già si è bravi e dotati allora io vi dicevo che questi tre cugini due fratelli un cugino davvero avranno un ruolo molto importante perché qual era l'idea di fondo cosa c'era di diverso rispetto alle accademie scusate ripeto le botteghe medievale rinascimentali in cui si formavano prima gli artisti l'idea era quella di proporre agli artisti o ai futuri artisti una formazione completa sia pratica come era sempre stato che teorica e questa era la grande novità pensate che gli artisti che potevano iscriversi i promessi artisti che potevano iscriversi a questa accademia avevano a disposizione dei libri pubblicati ormai siamo nell'epoca in cui i libri erano abbastanza diffusi quindi gli artisti potevano studiare su questi testi e potevano inoltre disegnare dal vero dei modelli nudi anche questo è una possibilità nuova importante perché ricordiamoci che siamo in piena controriforma e ricordiamoci che vi ho dato la data 1582 1590 ricordiamoci che pochi anni prima appena morto Michelangelo Buonarotti in 1564 era stato chiamato Daniele da Volterra a coprire i nudi Michelangeleschi del giudizio universale della Sistina quindi davvero no anche poter dipingere disegnare dal vero i nudi modelli nudi in piena controriforma rappresentava una grande nudità e novità non nudità novità allora l'idea era quella di una formazione completa vi dicevo è un po come per i poeti o come per i musicisti cioè gli artisti l'avevamo già visto come grande tema durante tutto il cinquecento non volevano più essere considerati soltanto degli artigiani conosciamoli un po meglio allora questi tre personaggi ve li faccio vedere velocemente non mi fermo assolutamente sulle loro opere ma voglio un po raccontarvi qualcosa in più il primo di cui vi voglio parlare è Ludovico il cugino dei due fratelli Ludovico Carracci diciamo che era quello che si occupava più della componente pratica pittorico tecnica diciamo così per lui era importantissimo che le figure potessero ispirare modestia santità e devozione ricordiamoci sempre e ve lo racconterò ancora meglio tra un attimo che la controriforma aveva avuto un ruolo importantissimo anche per gli artisti dal concilio di trento erano usciti anche dei testi scritti da due cardinali pensate niente meno che il cardinale carlo borromeo l'arcivescovo di milano carlo borromeo che diventerà veneratissimo come sappiamo verrà poi fatto santo in sede seicento verrà diventerà un grande personaggio a cui ispirarsi che aveva scritto un testo appunto per dare indicazioni ad architetti pittori e scultori su come approcciarsi al mondo dell'arte ma ci sarà un secondo cardinale si chiamava Gabriele Paleotti ve ne parlerò un po meglio tra un attimo che aveva pubblicato un testo davvero significativo per i pittori in particolare e in questo caso davvero questa idea di ispirare modestia santità e devozione era il punto di riferimento vi sto mostrando in questo senso alcuni dipinti di Ludovico Carracci in cui vedete queste sono due diverse annunciazioni innanzitutto vorrei mostrarvi che siamo comunque in un'epoca in cui diciamo che dal manierismo si tengono valide e validi modelli culturali quindi sicuramente vedete che questi artisti si ispiravano erano artisti bolognesi tutti e tre ma si ispiravano alla grazia raffaellesca alle conquiste michelangelesche al colorismo veneto e ad alcune componenti espressive sentimentali tipiche di Correggio che è un artista che aveva appunto lavorato in particolare nella zona di Parma ricordiamoci che i cugini erano appunto bolognesi quindi la zona era un po' quella ma vedete che quando si parla di pittura controriformata della controriforma quindi del tardo 500 in questo senso anche Ludovico Carracci non sfugge alla definizione della pittura della controriforma con questa richiesta di ispirare modestia santità e devozione nei fedeli beh vedete che allora i santi e le sante spesso hanno io passatemi il termine io dico spesso che i santi e le sante e le sante in particolare risentono un po' di un effetto gattamortismo cercate di capire cosa intendo le gatte morte avete presente quando le ragazze che vogliono fare una certa impressione ruotano inclinano un po' la testa e sbattono gli occhi con un'espressione un pochettino un po' la maria pentita diciamo così ecco queste sante dovevano un po' suscitare questo senso di santità di modestia di devozione quindi vedrete che le sante hanno sempre delle espressioni molto dolci molto aggraziate e spesso i personaggi guardano negli occhi i santi guardano negli occhi i fedeli ma hanno una gestualità che riprende le gestualità del moto del fiato leonardesco e tutto quello che era successo nel 500 ma davvero con questo intento un po' di fare scuola ai fedeli che osservavano le immagini vi faccio notare in particolare in questa immagine di ludovico carracci vedete che c'è una ispirazione anche molto forte a tiziano vedete che qui ci può vi può venire in mente nell'impostazione della composizione la pala pesaro con una prospettiva accidentale la madonna il bambino messi di lato di della chiesa dei frari appunto di tiziano quindi vedete che gli elementi che i personaggi che i carracci filtraveno erano un po' quelli certo c'era anche un'ispirazione se vogliamo anche prettamente manieristica in parte anche pontormo rosso fiorentino ma si cercava di i tre cugini cercavano un po' di eliminare gli eccessi del tardo manierismo anche se appunto viene nominato i personaggi del primo manierismo toscano ma vedete che appunto no il michelangelismo no queste queste forme anatomiche importanti delle composizioni molto articolate spesso con delle torsioni dei personaggi in grande movimento ecco sicuramente tutto questo era filtrato nelle opere di ludovico carracci vi presento il secondo personaggio forse per quanto riguarda l'accademia quello più importante agostino carracci eccolo qua in un autoritratto giovanile era il più colto dei tre personaggi e in particolare noi conosciamo alcune sue opere perché lui sarà anche un grande incisore che filtra tantissime opere antiche coppia proponendole poi in versione incisione tantissime opere di altri artisti che l'avevano preceduto quindi davvero un artista che permette di fare un discorso di studio guardate qui dietro il tempietto di san pietro in montonio di bramante sicuramente qui c'è una ripresa questa appunto enea ed anchise ripresa delle stanze vaticane di raffaello ma non solo ci sono decine di personaggi della pittura cinquecentesca che vengono evocati dalle immagini di queste incisioni il nostro agostino carracci era anche un non si limitava a riprodurre in incisione opere importanti questo sarebbe da tintoretto quindi da un artista del tardio manierismo del secondo manierismo veneto meraviglioso non si limitava semplicemente a riprodurre ma avrà anche una sua produzione autonoma come incisore e come pittore in alcuni casi ci sono anche delle scene abbastanza particolari c'era una serie di incisioni che si chiamavano le lascivie in cui si possono trovare delle forme delle immagini appunto lascivie come ci dice il termine stesso delle immagini anche erotiche abbastanza interessanti che andrebbe un po' contro tutto quello che vi sto dicendo per quanto riguarda la controriforma ma tornando alla pittura guardate un dipinto di agostino carracci di nuovo vedete che quanti elementi possono essere citati l'espressività dei personaggi esasperata no questa devozione questo eccesso questo sentimentalismo un po questo gattamortismo che un termine mio è sia chiaro non è della storia dell'arte questa espressione però vi fa capire cosa intendo e poi davvero questa citazione molto bella no del colorismo veneto del tonalismo guardate questo effetto del paesaggio quante volte abbiamo notato no questi squarci azzurri e una componente giallo rossastra aranciata appunto che crea un effetto di profondità prospettica tipica della pittura veneta del tonalismo ma c'è una cosa importante da aggiungere a questo punto vi dicevo che agostino era il più colto dei tre era il più colto era quello che faceva spesso riferimento alla classicità e alla storia come fonte di ispirazione e insegnava lui all'accademia storia dell'arte e filosofia perché è una cosa importante che non vi ho ancora detto che al di là della formazione sulla storia dell'arte degli artisti passati o presenti gli artisti che studiavano l'accademia di belle arti e questa è la grande differenza dell'accademia degli incamminati era che gli artisti avevano questa formazione completa ve l'ho già detto più volte ma non vi ho detto in cosa consistesse questa questa formazione cioè a parte la componente tecnica e pratica gli artisti studiavano lettere filosofia matematica geometria anatomia e quindi voi capite che era molto importante di questo discorso perché vi sto mostrando qui in particolare il prontespizio di un testo scritto dal cardinale bolognese Gabriele Paleotti di cui vi parlavo prima appunto questo discorso intorno alle immagini sacre e profane un testo scritto appunto dopo il concilio di trento e che voleva raccontare dire agli artisti come dovevano rappresentare le singole scene ora perché vi sto facendo vedere questo testo parlandovi di Agostino Carracci in particolare perché Agostino si interrogava sulla formazione completa degli artisti aveva introdotto in questa accademia in sostanza i tre cugini tutti i tre ma in particolare Agostino avevano proposto questo studio completo per gli artisti perché volevano che gli artisti potessero diventare persone colte cioè il disegno e la fase di studio preliminare erano anche un momento di studio per analizzare tutti i problemi connessi al significato dell'opera che si stava elaborando e al messaggio che si voleva trasmettere cioè usciamo dall'idea che gli artisti dovessero semplicemente imparare a disegnare di disegnare in prospettiva secondo l'anatomia le proporzioni va bene ma dovevano anche imparare a ragionare in termini culturali in senso esteso dovevano formarsi e qui entra in gioco il cardinale Paleotti perché il cardinale Paleotti in questo testo che vi strondo di cui mi sto mostrando il fruttoespizio scriverà che le immagini sentite sentite che frase importantissima le immagini penetreranno dentro di noi con molta più violenza che le parole. Non era nuova l'idea già il Papa Gregorio nell'antichità aveva suggerito questa ipotesi della potenza espressiva delle immagini ma nell'epoca della controriforma il capire l'importanza il valore fondamentale di comunicazione delle immagini è davvero significativo. Ripeto le immagini penetreranno dentro di noi con molta più violenza sentite l'espressione che le parole. Ecco a questo punto è fondamentale che gli artisti non siano meri esecutori ma è importantissimo che gli artisti possano avere una loro cultura affinché possano poi sviluppare una sensibilità consapevole per produrre un effetto guidato e qui vi sto di nuovo citando il cardinale Paleotti un effetto guidato a persuadere il popolo e tirarlo ad abbracciare alcune cose pertinenti alla religione. Ora questa idea che l'artista debba essere un uomo colto che può progettare affinché poi si possa guidare i fedeli nella direzione scelta cioè un artista consapevole non semplicemente un esecutore ecco è un'idea molto nuovo modernissima tenete presente non vi ho detto che questa accademia l'accademia degli incamminati diventa a questo punto la prima scuola privata di pittura dell'età moderna ma in questa logica l'artista che non è più semplicemente un esecutore questo davvero molto molto importante se pensate anche che quando io vi ho parlato del barocco io vi ho detto gli artisti barocchi diventeranno lo strumento di propaganda politica della chiesa ecco il punto sta qui gli artisti formati in senso esteso come persone colte che hanno sviluppato una sensibilità di un certo tipo possono mettere il loro lavoro a servizio in particolare ovviamente della chiesa ecco che quindi dal concilio di Trento nascono escono queste indicazioni questi testi questi veri e propri manuali questi 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 tomi insomma importantissimi per gli artisti su cui formarsi e studiare a questo punto vi mostro l'ultimo dei tre cugini annibale carracci sicuramente il più importante dei tre e qui vi mostro un suo ritratto vi dico subito che il nostro annibale carracci vive tra il 1560 e il 1609 e vi dico anche che vi ricorderete il famoso processo intentato a caravaggio nel 1603 quando caravaggio insieme alla ciurma dei suoi amici scanzonati notturni aveva fatto comparire questi versi che dileggiavano e umiliavano il pittore baglione vi ricordate giovanni baglioni allora durante quel processo vi ricorderete che caravaggio ne aveva approfittato per fare l'elenco dei pittori aveva detto io conosco tutti i pittori di roma non tutti sono valentuomini ma i valentuomini sono e aveva fatto un elenco di quelli che erano i suoi amici di pittori che stimava tra i pittori valentuomini che caravaggio stimava ebbene sì eccolo qui c'era anche annibale carracci questo sicuramente ci propone una visione interessantissima del personaggio allora vi mostro in questo momento soltanto alcune opere perché vi faccio un video a parte su un'opera importantissima di annibale carracci su cui voglio farvi riflettere ma intanto vi mostro questa incoronazione della vergine ancora una volta le caratteristiche della pittura devozionale post tridentina sono evidenti anche se dei tre annibale era sicuramente vi dicevo l'artista più dotato in senso puramente pittorico per quanto riguarda la composizione l'uso della luce il colorismo ma la sapienza vi dicevo a questo punto gli artisti pensateci da questo momento in poi dobbiamo già avevano lottato in questo senso i grandi artisti del cinquecento ma da questo momento in poi non potremo più considerare gli artisti come dei semplici pittori esecutori è l'idea già raffaello lottava in tal senso già michelangelo già leonardo lottava in tal senso ma il nostro annibale carracci sicuramente sarai più dotato dei tre cugini non a caso qui vi faccio vedere la sua assunzione in cielo di maria che troviamo niente meno che nella cappella cerasi di santa maria del popolo questo nome vi risulta assolutamente conosciuto perché vi ricorderete che nella cappella cerasi questa era la pala d'altare centrale i due i due teleri laterali erano rappresentavano la crocefissione di san pietro e la vocazione di san paolo di caravaggio vi ricorderete appunto la crocefissione di san pietro quella incredibilmente importante rivoluzionaria con i personaggi gli esecutori materiali messi in primo piano al pari di san pietro e dall'altra parte la famosa vocazione del cavallo come la chiamano gli storici dell'arte appunto di caravaggio quindi questa era la pala d'altare centrale ecco che vedete che pur nella diversità i toni di colore di caravaggio erano totalmente diversi totalmente di forme qui siamo ancora in una pittura che è ancora cinquecentesca da un certo punto di vista vedete ancora il colorismo veneto o il colore di raffaello tiziano michelangelo raffaello tutto questo filtrato da correggio davvero questi sicuramente questi elementi sono tutti importanti dal 1595 annibale carracci però si sposterà a roma e in particolare io non mi fermo su questa opera ma sappiate che realizzerà affrescherà insieme degli aiuti evidentemente la galleria di palazzo farnese tra il 1598 e il 1600 che è quella che vedete in questo momento vedete un tema mitologico trattato però secondo davvero l'apoteosi della no della riflessione classicistica del naturalismo del classicismo che avevano attraversato il 500 con questa bellissima immagine mi fermo tra un attimo vi racconto qualcosa di più